Il 25 aprile va in scena il big match della quarta giornata del girone B di promozione. Da un lato il bagliardo di Mr. Poggi, a punteggio pieno e in testa la classifica grazie al rotondo successo contro la Ronchese nell'ultimo turno. Dall'altra il frizzante atletic di Mr. Mariani, quinto in classifica e in grande forma dopo la vittoria per 5-2 contro l'Ortonovo. La partita comincia con le vibranti proteste di padroni di casa per la munizione per simulazione fischiata a Provenzano dal signor Baldini di La Spezia. Questo l'intervento. La partita è intensa e Provenzano si rifà vedere al diciassettesimo quando sfira il gol con questa voleda al cuore dell'area. Grande intervento di Valenti. Al diciannovesimo nuove proteste di padroni di casa per questo presunto tocco di mano nell'area dell'Atletic. Ecco il replay dell'intervento. Al ventesimo Rosati gira sulla sinistra nuovamente per Provenzano il quale conclude a lato alla sinistra di un attento Iguera. Alla metà del primo tempo si rifà viva l'Atletic con questo calcio di punizione da parte dello specialista Aprile. Ottima risposta di Valenti tra i pali. Passano due minuti e il signor Baldini estrae il cartellino rosso per Manzi, autore di un duro intervento fuori tempo sulla corrente bagnato. Un botta risposta. Per l'Atletic Ilardo con questa botta da fuori, per il Baiardo con il mancino di Rosati di poco alto sopra la traversa. Il secondo tempo si apre con questa botta da fuori di Fassone che non ipenserisce il portiere. Al quarantasettesimo slalom gigante di Provenzano sulla destra con l'attaccante che conclude Maeguera si fa trovare attento. Al cinquantesimo azione confusa a limite dell'area del Baiardo. Aprile liscia al pallone e l'orifice conclude di potenza ma Valenti si fa trovare pronto e devia in corner. Tra il ventesimo e il trentesimo doppia occasione Baiardo sui piedi di Rosati. Prima resiste a due cariche e conclude alla destra del portiere. Poi si accentra, conclude di collo pieno Maeguera risponde presente e salva il risultato. Al trentaduesimo ci prova Mossetti dalla tre quarti con un calcio di punizione a giro che per poco non sorprende il portiere. Al trentaquattresimo se ne va il neo entrato Scalamera sulla sinistra. Metti in mezzo il pallone e Mossetti conclude quasi a botta sicura ma Iguera compie l'ennesimo autentico miracolo. Rivediamo la prudezza del classe 2000. Prima del fisco finale c'è spazio per le proteste dell'Atletic. Per un presunto tocco di mano in aria ma l'arbitro lo lascia proseguire. La sfida finisce così a reti inviolate. Quel 25 aprile la partita finisce 0 a 0. Una partita bellissima. Nel primo tempo il Baiardo protesta contro la direzione di gara. Nel secondo tempo l'Atletic non riesce a sfruttare a dovere la superiorità numerica e così la partita finisce 0 a 0.